Un tributo pesantissimo, nel ricordo del quale principi come coesione, solidarietà e dialogo devono affermarsi con forza ancora maggiore rispetto ad odio e terrorismo. E' quello pagato dalla comunità bicegliese con i suoi due figli Carlo De Trizio e Pier Davide De Cillis. Il primo, maresciallo dei Carabinieri, deceduto nel 2006 a Nassiria. L'altro caporal maggiore dell'esercito italiano, morto ad Erat nel 2010. Entrambi vittime di gesti compiuti da Mani Vigliacche, la cui memoria è stata onorata stamani in occasione della giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. La cerimonia tenutasi nel cimitero di Biceglie, coincisa con il ventunesimo anniversario del primo attacco terroristico a Nassiria, è iniziata con la celebrazione ufficiata da Don Francesco Colangelo, al termine della quale si sono succeduti gli interventi istituzionali, a partire da quello del comandante della legione Carabinieri Puglia, Ubaldo del Monaco. La comunità di Biceglie, lo sappiamo tutti, ha pagato un prezzo altissimo, ha sacrificato i suoi due figli. Sono stati davvero impareggiabili portatori di pace, sono stati portavoce di quegli ideali di libertà in terre lontane. A loro dobbiamo un tepito di riconoscenza. Il ricordo dei caduti è un dovere per le future generazioni, affinché attraverso la memoria possano conoscere e ammirare chi ha sacrificato la propria vita per costruire la pace. Anche il prefetto della BAT, Silvana D'Agostino, ha reso omaggio al sacrificio di tutti i caduti, soffermandosi sul ricordo dell'attentato del novembre 2003 e precedendo l'intervento del sindaco Angel Antonio Angarano. Siamo qui innanzitutto perché siamo riconoscenti ai nostri eroi civili e militari, siamo loro riconoscenti per il senso della patria, per il senso delle istituzioni, per il senso del dovere e per la loro estrema generosità che è stata pagata con il sacrificio più alto, quello della vita. Presente alla cerimonia anche il carabiniere bicegliese Antonio Altavilla, sopravvissuto all'attentato di Nasseria del 2003, a cui è toccata l'emozionante lettura della preghiera per i caduti. In pochi secondi un camion bomba è esploso davanti alla base, distruggendo tutto quello che era stato creato in quattro mesi di aiuti, di pace e di serenità per la popolazione irachena. Dopo l'esplosione un silenzio tremendo di sangue, abbiamo visto tanto sangue, abbiamo visto tanti colleghi morti, quindi la giornata si è tramutata in terrore per tutti quanti noi. La giornata è proseguita con il corteo che ha raggiunto dapprima il sacrario militare per la deposizione di una corona di alloro in onore dei decillis, quindi il trasferimento alla tomba di Detrizio per rendere omaggio al marescialo dei carabinieri. Grazie!